Andiamo a collegarci con Lucio Fasoli che appunto si trova in questo dipartimento dove oggi si svolge veramente un incontro interessante e attualissimo le bande giovanili tra prevenzione e contrasto ed educazione alla legalità e poi cercheranno anche delle soluzioni. Lucio a te. Naturalmente sì, buongiorno Francesca, buongiorno Don Luca e bentrovati siamo qui al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona dicevate bene che parliamo anche di impegno, di aspetti positivi sicuramente ma partendo anche dal cercare insieme soluzioni ai problemi e tra poco sentiremo anche chi ha organizzato questo convenio interessante poco fa abbiamo avvicinato anche il già magistrato, ora scrittore, dottor Gerardo Colombo e vi proporremo questa sera quello che ha detto nel nostro notiziario prima di passare ai prossimi sentiamo qualche studente che è qui ci sono degli studenti delle classi quinte degli istituti superiori di Verona e Inaudi, Copernico, Pasoli e Montanari sentiamo proprio dalla loro voce quanto avvertono questo problema intanto buongiorno, di che classe siete voi e come vi chiamate? Buongiorno, siamo di Quinta E, entrambi dell'istituto Inaudi e io sono Michael Gattafu Io sono Anita Franceschini Quanto è importante per voi essere qui stamattina? Cosa pensate dell'urgenza di questa problematica? Come l'avvertite voi? Sicuramente è fondamentale essere qui perché comunque se siamo qui significa che si parla del problema e diciamo che la sensibilizzazione del problema aiutando alla consapevolezza dello stesso è sicuramente la prima parte per la risoluzione Tu avverti un po' questo problema tramite i tuoi amici? Cosa si respira nella vostra generazione su questo anche a Verona? Sicuramente non è la cosa più tranquilla che si possa avere ammetto che effettivamente un po' di timore verso queste azioni, queste cose c'è e per fortuna non mi è mai successo nulla, diciamo, però sì, diciamo un'atmosfera di timore c'è sempre Dipende naturalmente anche dalla zona, dell'istituto, dell'abitazione, eccetera Tu Anita, cosa hai da dire su questo senso? È importante essere qui? Allora, certo, è molto importante perché può aiutare anche noi giovani ad avvicinarci a queste tematiche che ci circondano infatti anche vicino al nostro istituto, l'istituto in Audi siamo conoscenza che ci sono appunto queste bande giovanili e siamo stati anche appunto oggetto di una delle azioni, insomma, di queste bandi è anche importante capire cosa appunto porta questi ragazzi, che comunque hanno la nostra età a compiere queste azioni, quindi anche... Cosa hanno fatto, scusa da voi in particolare? Hanno compiuto delle scritte sui muri della nostra scuola, appunto firmandosi Scusate, secondo voi è più un aspetto, diciamo, generale dell'istituzione della società o individuale? Perché a volte si dice che sono figli di buone famiglie, per così dire Allora, a mio parere è innanzitutto individuale perché parte dal singolo però poi si ritrova dentro una collettività che probabilmente ha passato le sue stesse azioni oppure pensano a cose simili e quindi si ritrova d'accordo in un pensiero generale, appunto Un po' il branco, ecco, così negativo. Per te, Michael, la situazione? Secondo me, beh, entrambi, sia dal punto di vista individuale che collettivo secondo me sono accomunate da comunque un senso di malessere che, diciamo, è difficile capire da cosa si è dato perché anche se guardiamo dal punto di vista quasi antropologico la situazione e andando indietro, ad esempio, negli anni fine 90 o 2000 in Francia c'erano sempre episodi comunque di criminalità come questi lì però la situazione era diversa perché il messaggio era chiaro era un malcontento per le istituzioni statali e o pulizia azioni condivisibili o no, eccetera sicuramente, questo è un altro discorso, però una cosa fondamentale è che questo malcontento non è chiaro come ai tempi cioè oggi sembra quasi una serie di azioni quasi vuote senza un significato è importante però sottolineare, sembra, perché all'apparenza è così ma non è detto, ecco perché appunto siamo qui per comprendere ancora meglio effettivamente la situazione Grazie, grazie tanti, allora prego tornate pure in aula noi vogliamo continuare a dar voce agli studenti sentiamo un'altra studentessa qui di un altro istituto qual è il tuo istituto e il tuo nome? Io vengo dall'istituto Copernico Pasoli, sono in classe quinta E brevemente cosa pensi di tutto questo? Penso comunque che, cioè mi sento comunque fortunata per essere nel mio istituto e aver avuto la fortuna di fare tutto il triennio accompagnata dalla scuola e territorio comunque che mi ha portato ad avere comunque una consapevolezza e un'informazione maggiore rispetto a molti altri istituti perché sono anche consapevole del fatto che pochi istituti aderiscono a iniziative del genere e quindi porta comunque anche una certa ignoranza proprio perché si porta il giovane ad ignorare certe tematiche e quindi in un certo senso a normalizzarle e quindi a sminuire quello che sarebbe un problema o comunque appunto un malessere o quindi non pensare alle conseguenze in un certo senso quindi penso che il punto fondamentale debba partire comunque dall'istituzione perché spesso i protagonisti sono persone della nostra età quindi dovrebbero andare a scuola o altro ma che trovano comunque conforto in altre persone che magari superano gli stessi problemi o cose del genere quindi penso che debba partire proprio dalle istituzioni dall'istruzione e da una consapevolezza maggiore che debba partire anche dalla persona singola Grazie mille Veronica, grazie tante Buona mattinata, allora noi continuiamo Fragetto ha toccato un tema, prego è il dottore Ivan Salvadori, giusto? Docente, professore? Sì, ok Chi ha organizzato un po' questo incontro? Prima di dare la parola ha toccato proprio un argomento importante che ha sottolineato anche Gerardo Colombo quello delle istituzioni insomma poi risumeremo anche quello che ci ha detto ecco l'obiettivo di questa mattinata come l'avete pensato? Sì, l'obiettivo di questa mattinata consiste nel comprendere meglio le dinamiche anche criminologiche, giuridiche sottese al fenomeno delle cosiddette baby gang ora il termine di per sé non è corretto più che parlare di baby gang si dovrebbe parlare di bande giovanili e ovviamente per comprendere i fattori scatenanti le cause di questi fenomeni ma anche trovare le soluzioni adeguate è più che mai opportuno coinvolgere le istituzioni istituzioni quindi l'università, le scuole coinvolgere i ragazzi coinvolgere le istituzioni pubbliche, il comune e quindi anche poi non solo l'assessorato alla legalità ma anche il garante per i detenuti perché poi dobbiamo sempre tenere conto che di fronte a gravi fenomeni criminosi poi i giovani o i cosiddetti giovani adulti devono rispondere anche con una pena e quindi a volte si tratta poi anche di fenomeni criminosi molto gravi Si può fare molto insomma la sicurezza del comune di Verona? Sicuramente e siamo anche fortemente convinti che occorre sicuramente contrastare ma prima di tutto occorre prevenire e la prevenzione passa attraverso un coinvolgimento delle scuole la formazione dei ragazzi, dei docenti che devono essere in grado di conoscere questi fenomeni e sensibilizzare i giovani, le famiglie e le istituzioni in senso ampio Grazie mille professor Rima Salvadori grazie anche per aver organizzato questa mattinata prego a Teresa Galletta che dica il suo ruolo per favore responsabile di questo insieme di istituti che comprende non solo Verona ma si va anche fuori provincia, fuori regione di cosa si tratta? Io sono la coordinatrice della rete Scuole Territorio Educare Insieme già il termine fa capire perché oggi siamo qui sono 65 istituti di ogni ordine grado dalla primaria alle scuole superiori che agiscono insieme con obiettivi con una mission comune con questo afflato educativo nei confronti della crescita di questi ragazzi e oggi questa collaborazione con l'Ateneo è molto importante il dottor Colombo collabora con noi da sempre dal 2013 ha cominciato a lavorare con i nostri docenti con i nostri ragazzi Posso chiedere il vostro lavoro è grande e importante cosa prova davanti a questi fenomeni che oggi diciamo sono nuovi rispetto a ieri tanto lavoro e naturalmente fate la vostra parte importante però la società sta andando anche verso altre direzioni sono un po' contrastante Sì sta andando verso altri canali però noi siamo fiduciosi noi dobbiamo seminare siamo educatori e la semina è lunga i risultati si vedono molto a distanza ma sono già più di 15 anni che facciamo questo e vediamo nella formazione dei nostri ragazzi dei cambiamenti non dobbiamo dare loro pessimismo dobbiamo essere fiduciosi anche se questi fenomeni esistono sono sempre esistiti ognuno di noi ha una sua responsabilità etica morale nei confronti dei nostri ragazzi noi continuiamo non solo a preoccuparci per loro ma anche nei confronti dei genitori perché in questo momento i genitori si sono infragiliti e hanno bisogno di sostegno e quindi la rete STEI insieme a associazioni a enti continua in questo percorso di formazione la formazione è la chiave di volta Le scuole cosa stanno facendo anche in particolare per contrastare questi fenomeni che sono attorno alla scuola forse anche negli istituti? Fanno formazione e danno consapevolezza ai ragazzi fanno momenti importanti la settimana prossima avremo per esempio Agnese Moro con Franco Bonisoli che verranno a parlare ai nostri studenti centinaia e centinaia di studenti potranno parlare di giustizia riparativa in un contesto sociale dove parlare di riparazione tra virgolette è difficile Ricordiamo chi è Agnese Moro Agnese Moro la figlia del grande statista Aldo Moro che ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa con alcuni dei brigattisti che facevano parte del commando di Via Fani verrà con Franco Bonisoli che dopo 27 anni di carcere ha intrapreso questo percorso e darà la sua testimonianza queste valgono molto di più di tante lezioni nostre i ragazzi hanno bisogno di respirare testimonianza e noi cerchiamo di farlo Grazie tanto professoressa Galletta io vi ripasso la linea qui dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona una tematica sulla quale vogliamo continuare a rimanere naturalmente e insomma cercheremo di avere altre possibilità di poterlo fare oggi le istituzioni sono insieme Gerardo Colombo ci ha sottolineato quanto i giovani respirano negatività ci ha detto nell'intervista che abbiamo realizzato oggi si parla tanto di guerra si parla tanto di violenza e sembra che sia l'unica modalità di poter dialogare oggi i giovani davanti a situazioni in cui i genitori sono infragiliti le istituzioni spesso anche non danno risposta ecco come qualcuno di loro risponde invece ha detto bisogna veramente dare esempi positivi e bisogna anche che le istituzioni rispondano sempre più prontamente a ciò che succede ha citato anche l'esempio del carcere dove vediamo la situazione diciamo molto critica rispetto ai sicili ma non solo la situazione com'è nel carcere quindi anche qui le istituzioni devono dare una risposta sempre più concreta grazie Lucio io vi passo la linea grazie per questo collegamento grazie mille a dopo ciao